Regione Toscana, il Consiglio regionale. Il Consiglio regionale si esprime in maniera favorevole per implementare e migliorare l'offerta di servizi psicologici all'interno del servizio sanitario regionale. Anche attraverso specifici progetti sperimentali, il documento approvato all'unanimità da forze di maggioranza e opposizione prevede che la Regione attivi un servizio di sostegno psicologico rivolto agli adolescenti per fronteggiare meglio la loro fragilità emotiva causata da Covid-19. L'atto di indirizzo nasce in seguito ad un'audizione con la dottoressa Maria Antonietta Gulino, presidente dell'Ordine degli Psicologi della Toscana, nell'ambito dell'attività della Commissione Sanità. Siamo partiti da un'audizione del garante dell'infanzia e della dottoressa Gulino, che è il presidente dell'Ordine degli Psicologi della Toscana, per farci dare e farci raccontare da loro con un po' di dati quella che è la situazione della nostra Regione. In particolar modo per i ragazzi, per i minori, evidenziando come oltre il 70% nel periodo del lockdown ha sviluppato disturbi o disagi legati all'epidemia Covid, come oltre il 22% ha manifestato difficoltà legate al cibo, insomma tante forme di disagio, ovviamente in particolar modo per i minori, ma che poi riguardano tutta la popolazione. E allora siccome il compito del sistema sanitario è quello di prendere in carico a 360 gradi quello che è la salute dei cittadini, quindi il benessere dei cittadini, e sappiamo come la presa in carico psicologica riduca anche poi l'accesso e il consumo di prestazioni sanitarie e soprattutto il consumo anche di farmaci, noi diciamo che ormai, soprattutto in questa fase pandemica e dopo la fase pandemica per superare i danni derivanti, è necessario implementare i punti dove il cittadino può trovare una presa in carico del proprio stato di disagio psicologico. E chiediamo che quindi questo sia, c'è una proposta dell'Ordine dei Psicologi sulle case della salute, quindi sui servizi territoriali di psicologia, chiediamo che questo possa avvenire intanto come una forma di sperimentazione diffusa che poi possa essere estesa a tutta la Regione. È inevitabile, ed è sotto gli occhi di tutti noi genitori, che i ragazzi dopo un anno, ormai è un anno di chiusure e restrizioni, stanno soffrendo moltissimo per l'assenza di una socialità fisica reale con i loro compagni di scuola, con gli amici, e questo li sta penalizzando molto. Io credo che sia non soltanto necessario, ma doveroso per il sistema sanitario farsi carico anche di questo problema, perché se da una parte dobbiamo cercare di tutelare il più possibile dal punto di vista della salute, quindi dall'evitare il contagio, non possiamo però dall'altra parte non farci carico di quello che adesso è un disagio che in alcuni casi, l'abbiamo visto con dei casi di cronaca, sta diventando un vero allarme sociale. Stiamo tutti vedendo casi di giovani che si riuniscono anche in maniera poco attenta, poco accorta, addirittura alcune volte organizzano online risse oppure eventi vandalici nelle grandi città. Dobbiamo veramente tenere in considerazione la loro salute e non solo quella fisica. Sì, una mozione condivisa da tutto il Consiglio, perché purtroppo, e dico purtroppo, arriva in un momento drammatico, perché comunque arriva dopo un anno esatto dall'inizio del primo lockdown e come abbiamo detto e ripetuto tante volte, un po' tutti in questo anno, i minori, i più piccoli, i bambini sono stati sicuramente tra le fasce più colpite da questa situazione. L'età del pre-sviluppo, l'età della pre-adolescenza, l'età in cui i bambini sviluppano non soltanto le capacità cognitive, le capacità, l'avvio all'istruzione, alla scuola, ma anche e soprattutto l'avvio alla socialità. Ed essere privati della socialità all'improvviso, da un giorno all'altro, è stato senza dubbio un trauma che ha portato a una maggiore richiesta di sostegno anche psicologico e quindi ben venga che la Regione vada incontro a questa necessità oggettiva, della quale avremmo fatto ben volentieri a meno, ma che è un dato di fatto che ci sta lasciando in realità questa pandemia. Sono molto soddisfatto del fatto che il Consiglio regionale abbia accolto la nostra proposta. Ringrazio il Presidente Sostegni. L'idea che si desse un servizio aggiuntivo ai ragazzi, ai bambini, ai pre-adolescenti, agli adolescenti, da parte del servizio sanitario a livello locale, è importante. Le aziende sanitarie dovranno implementare la loro offerta di servizi, lo dovranno fare la medicina generale, dovrà fare le case della salute. Cioè il sistema sanitario a livello territoriale, in termini di prevenzione, deve dare un aiuto forte ai ragazzi. Molti adolescenti rinchiusi nelle loro abitazioni, costrette alla didattica a distanza, stanno vivendo sulla propria persona un dramma, quello dell'isolamento, che determina paure, che determina insicurezze, che allo stesso tempo può determinare delle situazioni che se non recuperate o accompagnate potrebbero essere nei prossimi mesi oggettivamente un limite alla loro giovinezza, alla loro socialità, alla loro relazione con gli altri. Quindi questo percorso va accompagnato, è senso di responsabilità assumersi questo elemento. Non si tratta di una questione di carattere sanitario. Si tratta di una questione di carattere sociale che in questo momento deve vedere il Consiglio regionale vicino alle famiglie, vicino ai ragazzi, ma però vogliamo vedere che questa risoluzione, oggi approvata e ringrazio il Consiglio, venga poi attuata. Io monitorò in maniera costante il fatto che venga poi dato seguito a quanto oggi il Consiglio regionale ha chiesto di fare. Serve un servizio aggiuntivo, deve essere pubblico, può integrarsi e convenzionarsi con sistemi privati, c'è una grande professione all'esterno che deve accompagnare i ragazzi prima ancora che questa dimensione diventa una questione di carattere sanitario. E poi una risposta può essere data anche nei pronti soccorsi dove ci dicono che appunto gli accessi di molti adolescenti sono cresciuti per l'emergere anche di sintomatologie o di patologie nuove. Quindi una risposta importante che mi auguro di asseguito e sollievo a tanti ragazzi. Abbiamo votato convintamente a questa nuova proposta di risoluzione che prevede un sostegno psicologico per le persone che in questo momento sono in difficoltà. E dire persone in difficoltà significa non escludere nessuno, perché tutti quanti noi siamo in estrema difficoltà, difficoltà economica, difficoltà di relazione, difficoltà di stare con gli altri. Pensate a quanto è grave il fatto che nessuno di noi si possa toccare, che nessuno di noi si possa abbracciare, che i nostri figli non possano dare un bacio ai propri nonni, perché in quel bacio ci potrebbe essere la pericolosità di contagiare il nonno e quindi addirittura di perderlo. E purtroppo in alcune famiglie è addirittura successo. Viviamo un momento dove l'aiuto, il supporto psicologico di una persona che è formata per contrastare anche elementi di grande criticità che in ognuno di noi si stanno creando è estremamente importante. Quello che deve fare la Regione Toscana è finanziare alcuni supporti psicologici e sfatare anche il mito che se vai dallo psicologo sei uno malato, se vai dallo psicologo sei uno che non si potrà mai più riprendere. Non è assolutamente vero. Ve lo dice uno che nella propria vita ha fatto un'esperienza di un percorso sia con lo psicologo che con lo psichiatra per un motivo mio personale e quel percorso lì mi ha aiutato. Perché è un percorso che ti fa vincere alcune paure, perché è un percorso che ti sostiene e perché non bisogna vergognarsi nemmeno di dire che si va dallo psicologo. Perché andare dallo psicologo è come andare dal medico. Il medico ti prescrive una medicina, lo psicologo ti prescrive un percorso dell'anima e vi assicuro che quel percorso dell'anima può non soltanto salvare la tua vita, può salvare la vita degli altri, ti aiuta a vivere molto meglio. È un momento difficile per tutti noi, lo dicevo prima, e soprattutto penso ai bambini. Quant'è difficile per i bambini affrontare, per esempio, la scuola con le mascherine, non poter andare a un giardino, non poter frequentare i propri coetanei, non poter avere una vita di relazioni con gli altri. Domandiamoci cosa rimarrà dopo il Covid. Rimarrà la paura per ognuno di noi di avere delle relazioni, rimarrà la paura per ognuno di noi di baciare l'altro o di toccare l'altro. Ecco, un supporto psicologico deve aiutarci a superare. Direi che è stata una risoluzione portata dalla terza commissione sanità, è stata recepita in consiglio regionale e devo dire che abbiamo cercato di fare un atto che potesse tener conto anche delle esigenze dei medici, perché la richiesta di uno psicologo di base e psicologo di cure primarie andrebbe a confliggere eventualmente con quella che è l'attività del medico. Per cui noi abbiamo specificato che, pur essendo necessaria la figura dello psicologo in una maniera più importante, debbono mettersi d'accordo i due ordini per poter non essere in conflittualità. Il 9 maggio 2021 la Toscana celebrerà la Festa dell'Europa, una ricorrenza con varie iniziative rivolte prima di tutto al mondo della scuola e dei giovani, con l'obiettivo di favorire una diffusione della cultura europea. Sarà un'occasione per dar forza al percorso che la Toscana sta condividendo con la Commissione europea. La festa, istituita con una proposta di legge d'iniziativa della Commissione politica europea e relazioni internazionali, è stata approvata nell'ultima seduta del Consiglio regionale e prevede uno stanziamento di 15.000 euro per l'annualità 2021 e 50.000 euro per ciascun anno 2022-2023. Il Consiglio regionale ha completato la dotazione di questa proposta di legge che è nata in Commissione Europa su uno spunto del Consigliere Stella, sul quale abbiamo lavorato insieme a commissari di maggioranza e opposizione, in collaborazione con il Presidente del Consiglio Mazzeo e gli uffici. Con il voto di quest'ultima seduta arriva praticamente il completamento anche di questa proposta di legge che ha un obiettivo far sì che anche in Toscana si possa celebrare, ricordare e soprattutto vivere la festa dell'Europa che cade il 9 di maggio con iniziative, eventi e soprattutto occasioni di riflessione che saranno portate avanti d'intesa con gli enti del territorio e ci auspichiamo anche con il mondo della scuola. Conferenza stampa in Consiglio in tema di arte per la presentazione della Fondazione Catarsini dedicata al Maestro Via Reggino. La nascita della Fondazione Alfredo Catarsini 1899 intitolata al Maestro Versiliese, celebre pittore, scrittore, critico e poliedrico animatore di proposte culturali, in questo momento vuole rappresentare un segnale di attenzione che anche il Consiglio della Regione Toscana intende rivolgersi alle giovani generazioni e al settore della cultura. Così in un periodo drammatico come quello che stiamo vivendo per tutto, anche per il settore culturale, salutare la nascita di una nuova fondazione e la presentazione delle sue attività proprio qui nel Palazzo del Consiglio regionale che vide l'ultima ritrospettiva del Maestro 16 anni fa è particolarmente significativo. È una bella storia che si riannoda e che da qui riparte e quindi è stato un piacere ospitare qua la presentazione della fondazione. E devo dire che in generale una fondazione che nasce con questi obiettivi, con questo impianto, un bellissimo sito, tante attività, un calendario fitto di iniziative anche varie, è un segnale senz'altro positivo per il nostro territorio e dà come al solito una prova, se mai ce ne fosse bisogno, della ricchezza della nostra scena culturale e del nostro panorama, di che cosa ha dato la Toscana come Natali all'arte e alla cultura in generale. Momento importante, in un tempo in cui sono chiusi i teatri, sono chiusi i musei, non si riescono a fare mostre, sapere che c'è ancora chi investe sulla cultura ci dà forza e anche un po' di speranza. Per questo ho accolto con piacere l'invito che la Presidente Giacchi mi ha rivolto insieme alla fondazione e sono qui per mandare questo messaggio di speranza e di speranza perché non vediamo l'ora di poter ripartire, le nostre mostre, i nostri luoghi di cultura possono tornare a riaprirsi, questo fanno grande la nostra regione, la bellezza della Toscana è nella sua storia, nell'arte, nella capacità di saper trasmettere qualcosa di veramente profondo alle cittadine, ai cittadini e anche ai visitatori della nostra regione. Abbiamo voluto fare, intraprendere questa avventura, è sicuramente un momento molto importante, entusiasmante perché Alfredo Catazzini è stato un pittore che ha attraversato praticamente tutto il Novecento, è morto nel 93 a 94 anni, ha sperimentato tutti gli ismi del Novecento, ha avuto fortemente un interesse per la ricerca nel mondo dell'arte, è stato docente anche all'Istituto d'Arte di Pietrasanta, quindi ha avuto molto a che fare con i giovani e con tantissimi personaggi del mondo culturale e artistico che in quel momento Viareggio ospitava e tutta la Versilia naturalmente ospitava. La fondazione ha come scopo principale quello di valorizzare l'opera del maestro, ma attraverso anche il suo archivio storico e quindi tutto quello che il mondo che lui ha vissuto è possibile creare sinergie, trovare nuovi orizzonti, nuovi stimoli per poter sia approfondire la sua arte ma anche approfondire quello che è successo in tutto questo periodo di una lunga vita molto laboriosa.